Per Full Art Immersion parliamo di Paola Bona, quest'artista che nasce in Svizzera, ma che esercita la sua arte in quel di Belluno. Paola Bona è un artista che fondamentalmente ha desiderato esprimersi dal punto di vista artistico perché ha sempre avuto fin dall'infanzia un talento, una capacità, una predisposizione all'utilizzo dei materiali e al rapporto con i materiali artistici. Ha sempre prediletto lavorare per sé stessa, dipingere per sé, fare delle cose per appagare un desiderio intimo, per avere un rapporto di pace, di serenità, una vivezza interiore che ovviamente realizzando arte molti artisti riescono a trovare. Ma ultimamente invece, essendosi avvicinata a un circolo artistico in quel di Belluno, ha iniziato delle esposizioni pubbliche in cui le sue opere hanno avuto positivi riscontri e positivi riconoscimenti. Perché l'arte di Paola Bona è un'arte suave, un'arte leggera, con un'espressione molto felice. Una collega critica d'arte sostiene che quello di Paola Bona è un linguaggio libero dall'alfabeto comune. Un modo di voler lavorare per esprimere un io immediato, per esprimere nell'immediatezza qualcosa che abbia senso, qualcosa che esprima la serenità, la gioia, la bellezza che Paola Bona vuole esprimere. Tutte le opere che stiamo vedendo, che sono inserite in questo catalogo di Full Art Immersion, sono state tutte realizzate in resina apposta su varie superfici, tela in particolare. Un modo di lavorare che è assolutamente di primo impatto. Paola Bona per Full Art Immersion.